Il tempo sulla nostra regione continua a essere determinato dalla presenza della depressione sul Martireno, che richiama correnti sudorientali verso le Alpi. A tratti dunque arriva aria più umida, a tratti invece aria un po' più secca. La presenza dell'instabilità provoca naturalmente le piogge e i temporali alternate alla presenza del sole. Sia sabato che domenica prevediamo dunque cielo variabile su pianura e costa, più nuvoloso in montagna sulle prealpi carniche e in Carnia. Non mancheranno delle piogge sparse e qualche temporale, più probabile in montagna, ma possibile anche sulle altre località della nostra regione. Sulla costa soffrirà vento di bora, bora in genere moderata. Le temperature minime saranno attorno ai 14-15 gradi in pianura, attorno ai 16-17 sulla costa. Le massime attorno ai 27-28 in pianura, attorno ai 25-26 sulla costa. Da lunedì il tempo comincerà a essere un po' più stabile, in prevalenza cielo poco inuloso o al più variabile. Da martedì, bel tempo, con cielo in prevalenza sereno su pianura e costa. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanutto.